Ciao a tutti, sono Serena e sono un'appassionata di cartoleria. Oggi siamo qui insieme per decorare la settimana che inizierà. E andiamo subito a decorare queste due. La Happy Planner ha la possibilità di staccare i fogli e in questo modo è tutto molto più semplice. Io voglio utilizzare questi sticker che ho acquistato in una cartoleria vicino a casa mia. Sono veramente bellissimi. Visto che so già quali sono i giorni in cui lavorerò, voglio iniziare a mettere questo. Questo lo metterei così, su lunedì. Poi andrò a lavorare anche mercoledì mattina. E quindi mettiamo un'altra qui. E poi andrò a lavorare anche sabato. E tra l'altro sabato ho anche un altro impegno. Quindi metterò questa agenda sul sabato. Sabato mattina presto. E poi so che sabato a mezzogiorno ho un altro impegno. Quindi vado a cercare, penso che sceglierò questa qua. Dove mangiamo le patatine fritte. E lo metterò qui. E ok. Poi io lavoro tutti i pomeriggi, quindi andrò a prendere delle etichettine piccoline. Perché non ho molto da scrivere rispetto al pomeriggio. Quindi rimetterò una qua. Poi vediamo se ce n'è una più piccolina. Questa viene troppo. No. Magari questa. Gialla. Così. Questa. Qui. Un'altra di queste note sul venerdì. Va in mezzo. E poi ne sceglierei un'altra fine. Ma c'è questa. Questa mi piace. Ah. È proprio molto piccolina questa. Quattro. E lo metterei qui. E questo. Lo metto qua. Ok. Perfetto. Quindi ho le tre mattine. Tutti i pomeriggi. L'impegno che ho qui. E quindi per il momento direi che sono a posto. Questo non mi piace per niente. L'ho fatto in un momento proprio. Lo so. Di non voglia. Infatti non mi piace per niente. Andrò a coprirlo in qualche modo. Potrebbe coprire questo. Sì. Perfetto. Così abbiamo coperto anche quella schifezza. Quindi io metterei qui un computer. Perché la mattina faccio. Perché c'è già anche il cagnolino. Però io quasi quasi. Ottimo che carino. Che scherente. Qua. Ok. Qua ci ho messo un bel computer. Poi vediamo. Qua ci possiamo mettere una matita. E comunque la matita io al lavoro la utilizzo. Ci metto la matita. Poi vediamo lo smalto. Lo smalto lo smalto lo metto sul venerdì. Qua. Perché? Io sono una giocatrice. Lavoro con le persone anziane. E il venerdì mettiamo sempre lo smalto. Mettiamo qui un to-do. Lo mettiamo azzurrino. E lo mettiamo qua. Ok. E anche qui un notte. E lo metterei giallo. Così. Ok. Perfetto. Allora. Gli uoscini. Questi uoscini sono bellissimi. Gli uoscini sono anche molto sottili. Mamma mia sono stupendi. Allora. O ce lo metto così. No. Allora. Io ce lo metto così. Mi sono comodissima a fare questo lavoro. Avviato. Questo qui io lo farei terminare con un adesivino tipo una lavatrice. Io faccio sempre lavatriccino. Sempre, sempre. Con un marito e due figli. Abbiate pietà di me. Ok. Poi vediamo. Volevo utilizzare un altro uoscino. Dove sarà? Ah, è giallo. Volevo utilizzare un altro uoscino. Va bene allo stesso. Vediamo se lo riesco. E questo io lo metterei invece. Quanto? Ok. Lo andrei a mettere così. E tante per cento. Andiamo a toglierlo. Et voilà. E l'abbiamo tolto. Beh, intanto devo dire che è carino, eh? Poi questo possiamo metterlo qui. Così. E questo lo mettiamo qua. No, non mi piace perché c'è già. Lo mettiamo qua. Vi dirò che non mi dispiace così, eh? Aggiungerei delle decorazioncine. Un bel hamburger perché quello ci sta sempre bene. Anche perché spesso volentieri. Ci facciamo un bel hamburger patatine e Coca-Cola. Ok. Per il to-do io qua ci metto questi pallini. Sono un po' grandi però non fa niente. No, non mi piace. Potrei colori che ho utilizzato fino ad adesso. Quindi l'azzurrino, il giallino. Ok. Quindi qua avremo il nostro to-do. Uno. Due. E tre. Bene. Io metterei ora questo. Qua. Lo mettiamo qua. In fondo la domenica perché la domenica non si fa nulla. Quindi è sempre un vesto dei. Allora mancherebbe qualcosa qui. Vediamo. Metterei testo. Non dimenticare qui. Ok. E poi questi tre io li coprirei con quei pallini. A meno che anche questi non sono male. La mettiamo. Questo qua. Questo qua. Di solito sono un po' più precisa ma con davanti telecamera, telefono. È tutto un po' più complicato. Perfetto. E questo già abbiamo sistemato il nostro angolino. Io farei anche questo. Good day. Mettiamo questo. Good day. Lo metterei qui. Tra venerdì. Tra giovedì e venerdì. Perché la mattina non lavoro. La mattina calidera. Per me è sempre una figazzine pazzesca. e ci metterei un azzurrino qui. Così. Poi ce ne metterei uno giallino. Così. E poi magari riprendiamo questo colore. e ce lo mettiamo qua. Ok. Qua potremo mettere le iniziali di dove andrò a lavorare. Quindi serve una G. Però la metterei di un altro colore. Visto che c'è là. Non c'è da calcolare che ce ne ho mai male. Non c'è. Allora mettiamo questa. Calcolare mamma mia ma che bello. Che sono. Così trasparenti. Mi eroro. C'erano. Vabbè. Grigie. Un gran che però va bene. E qui un'altra G. Ci mi serve una P. E poi andrò a scrivere praticamente in corsivo. Ok. Scriverò il nome del posto dove vado a lavorare. Il nome del posto. Il nome del posto. Qui non mi serve perché tanto è sempre lo stesso posto. Non cambio. Ok. Ecco la rosa. Allora proviamo. Se vorrei attaccarlo dritto. Ok. Normalmente io uso gli sticker Happy Planner. E gli sticker Happy Planner sono già misurati per questi riquadri. Quindi non bisogna praticamente andare a modificare nulla. Ok. E spero che stiate vedendo. Poi controllerò nelle rizzi. No. Disastro. Vabbè fa niente. Copriremo. Con stickers. Potrei già utilizzarlo questo. Guardate cosa faccio. Io lo metto qui. E poi ci prendo un wash di questi. Dai amici. Dove siete? Qua. Questa mi piace un sacco. Questa mi piace un sacco. Questa mi piace un sacco. Così. Così. E così. E così. Carino. Non è venuto male dai. E questo. A questo punto. Visto che ce l'ho. Lo possiamo mettere. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo amici? Amici amici. Qui. Facciamo una sovrapposizione. Qua. Qua. Ma sì dai. Lo mettiamo qua. Che dite? Qua dobbiamo attaccarci sopra qualcosa. Per dire. Ok. Va bene. Ci devo scrivere lì. Beh. Ci scriveremo qualcosa. Cosa. Se. Questo mi interessa. Serie da vedere. Io sono un appassionato di serie. Questo è perfetto. Ok. Poi ragazzi. Manca ancora questa parte. Ci mettiamo. Un'altra lista. Dai. Facciamo così. Mettiamoci un'altra lista. Con queste. Questo. Poi decido cosa metterci. Qua. Questo. Questo sticker book mi piace veramente tanto. Questo. E poi questo. Così. Non fa niente. Non fa niente. Poi. A vedere tutto insieme. Non è comusta proprio vedere la precisione. Metto. Allora. Ci metto note. Questo. Block notes. E poi. Qua. Così. E poi. Ci metterò. Una piccola scritta. Il problema. Trovarla. E trovare quella giusta. Queste sono troppo grandi. Mi servono quelle piccoline. Shopping list. Perfetto. Attacchiamo solo questa. E la mettiamo qui. Ok. Forse essendo trasparente. Quasi quasi. Questo ci stava meglio sopra. Vero? Perfetto. 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 Oh che carino. Sì sì sì. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Allora. Bene. Io ho finito. La decorazione è finita. Spero di avervi dato qualche spunto. Come avete visto. Io parto già pensando agli impegni che ho. Per andare poi a mettere queste etichette. Che allo stesso tempo sono decorative. Questo è tutto. Vi saluto. Fatemi sapere nei commenti se la decorazione vi è piaciuta. Vi ringrazio per essere stati con me. Lasciatemi un like. È un piccolo sforzo per voi. Però è un segnale per me. Per poter andare avanti a fare questo piccolo progetto. Quindi siate buoni. Lasciatemi un like. O anche solo un saluto. O se avete qualsiasi domanda da farmi. Che riguarda la Happy Planner. Mi raccomando fatemela. Io devo dire che questa decorazione mi piace molto. Sono belli. Che mi dite? Mi piace? Poi magari se volete fatemi sapere. Se volete poi io ve la faccio vedere anche compilata. Ok? Grazie mille. Vi saluto. Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Anche solo per darmi un piccolo segnale che siete passati di qui. Ok? Grazie. Ciao.